Per tre volte Antonino Gioffre a Cosoleto ha vinto le elezioni ed è stato proclamato sindaco del paesino della Spromonte. Su quel successo elettorale però da oggi c'è l'ombra dell'andrangheta, precisamente della famiglia degli Alvaro che secondo gli inquirenti, lì come in altri centri della provincia regina, comanda e impone i suoi uomini anche nelle istituzioni. Antonino Gioffre, espressione di una lista civica finito ai domiciliari, è tra le 77 persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del maxiblitz contro lo storico clan calabrese e le sue ramificazioni tra Lazio e Valle d'Aosta. Un'indagine nata nel 2016 a Roma dove da decenni la Cosca aveva stesso i suoi interessi acquisendo la gestione e il controllo di un numero enorme di attività economiche, bar, ristoranti. Fino al 2015 però non esisteva un locale di indrangheta nella capitale e quell'anno raccontano le carte dell'inchiesta della DIA che viene costituito con il placet della casa madre, tutto secondo tradizione, riti, linguaggi, codici. A capo due boss, Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, siamo una carovana per fare una guerra, dicevano in un'intercettazione.